Come se metti sciaglino nillo cecchino Non ha lo stesso paro che comunque Sono giocatori che sanno tirare Ma non è la loro cosa migliore Cioè è come se tu considerassi Paragoni a caso col calcio Vediamo Sto pensando Porco dio Non riesco a pensare che faccio palla persa Il schianto al suo Mi piace il cazzo come una rockstar Ecco se tu vuoi dare una considerazione Mi dico Una sua Cosa migliore O identificare Il colpo di testa Cioè lo sa fare Però non è la sua cosa migliore Come se mette in signe Il tiratore da centrocampo Non sa tirare Lo sa fare ma non lo fa mai No non in questo senso Non è questo il paragone Il paragone è che Per esempio Ci sa un giocatore che Sa fare bene una cosa Ok Però sa fare neanche un'altra Non bene quanto quell'altra Però tu veramente lo vuoi identificare Con la cosa che sa fare Con la seconda cosa che fa meglio Non con la prima O addirittura con la terza cosa che fa meglio Non con la prima Cioè nel senso no Ok Non c'entri con cazzo stessa Vuole che ci lo spieghi meglio Ah questo è il tonno Questa veramente Eriksen e bravissime punizioni Però No no Sì Diciamo di sì Quindi lo identifico Le specialità punizioni Ah In realtà lo identifichi come Come un buon Un buon Un buon Un buon Un buon parcheggiatore Un buon parcheggiatore E in realtà lui fa il parcheggiatore Capito ma Abusivo Sì Ok Allora